Sindaco, anche quest'anno ha notaresco un cartellone estivo di primo livello, possiamo dire? Sì, lo possiamo dire, con tutte le difficoltà del caso. Prima di fare cultura abbiamo cercato di non tagliare nessun servizio sul nostro paesello, in special modo i servizi scolastici, i servizi sociali. E poi siamo passati al calendario estivo che qualifica un territorio. Infatti con tanti eventi sul cartellone quest'anno vedremo tanti nostri concittadini e nostri anche cittadini delle varie regioni italiane venire a notaresco. E si parte subito con un grande festival, il Playnot Festival. Poi abbiamo anche altri eventi culturali proprio storici, c'è la rievocazione storica di Castro Notarisco. Poi ci sarà un festival delle birre, però dico autoctono, perché solamente le birre delle Corrine Terramani. I birrifici artigianali della nostra provincia faranno questo evento a notaresco, anche per qualificare la nostra provincia, partendo dal nostro birrificio Perbacco con tutti gli altri birrifici del territorio provinciale. Poi continuiamo con Pizzica e Taranta con i Malafè. Abbiamo un evento poi a fine settembre che chiude il cartellone che è tra i più importanti, che è stata l'idea dell'Abruzzo Irish Festival. Il primo festival in terra d'Abruzzo si farà a notaresco, irlandese, che l'anno scorso ha visto presenze dalla Lombardia, dalla Toscana, dall'Umbria. Quest'anno pensiamo di andare oltre il confine italiano, con tre giorni che veramente qualificherà il nostro band, il nostro marchio. Un ringraziamento a tutte le associazioni che noi cerchiamo di finanziare, perché noi finanziamo le idee, non le chiacchiere. Nel nostro paese, come in tutti i tali, c'è chi critica senza fare nulla, e c'è chi invece si adopera veramente per fare qualcosa per la propria municipalità. Nel nostro paese, come in tutti i tali,